Ciao ragazzi, sono sciolato e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su un altro gioco, anzi un libro fatto meglio, però questa qui è una specie di serie, una season, una season, una season, perché questa qui è una partita e per fare la partita ce ne voglio, non è? Voglio mettere, non è il massimo però, ah c'è il massimo è il meglio. Partiamo, vai. Oh, oh. L'Italia comincia a miss. Partiamo bene, è un'Italia del nord, è un'Italia del sud. Metterò i nomi. Partiamo benissimo, le fiocche. La Turchia, è un'Italia del sud. Un'Italia del sud è un'Italia del sud. È morto, veramente. È morto. È morto. perché è divisa l'Italia in due parti e questa per ora è qui la Francia e la Danimarca non esistono perché sono state colonizzate dalla Britannia che però la chiamo Inghilterra che mi si ammussano le palle e ha straverso cioè ha perso l'Irlanda passa Spagna non c'è Sì l'italia del nord è più grosso dei balli del sud, questa è la Tunisia l'italia del sud sta combattendo, madonna, queste due stanno sempre in conflitto scusate che ci sarà una Spagna sola subito, come dovete vedere se faccio questa no attenzione, rimontone incredibile, Spagna del nord ha la Spagna del nord, l'italia del nord è appena stata uccisa dagli inglesi non mi piace attenzione, guerra, guerra, è guerra è morta e esiste già la Spagna c'è un po' un po' allargando guarda la Finlandia e che gigante la Russia è divisa l'Inghilterra non scherza invece questo è l'impero no, l'Islanda l'Islanda c'è l'Inghilterra c'è l'Inghilterra c'è l'Inghilterra c'è l'Inghilterra c'è non è vero la Turchia la Turchia l'Inghilterra questo è l'Inghilterra no questo è l'israele facciamo così questo è l'iran la turchia però ti devo chiamare così questo è la George che giorgiana ma l'italia stava che mi schifo attenzione l'islanda stava perdendo l'italia ora quasi tutta la penisola l'italia la penisola l'italia la penisola manca trento i trieste ma se l'impero svevo fa così e faccio così l'italia l'importante è che ha la penisola e una piccola colonne in Africa poi stiamo fuori la Georgia è gigante la Turchia sta invadendo la Grecia però la Grecia è stronger tu chi cazzo sei si può sapere non ti chiamo Jugoslager perché se no parto con le cose ti chiamo Paesi Bassi bene l'Africa io uso l'Aguinea un po' davvero perché stiamo fuori un po' davvero Youtube ritorno in tedesco ok quindi se io faccio attacco così si ummede abbiamo trento abbiamo perso però milano mannaggia no che sta succedendo spagna devi attaccare vai questo è l'olanda questi io li mi tendo bene vai tipo no 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 sì mamma mia no ma la giorgia gigante questa è la rabbia saudita questo è tutto il cazzo si numero ma l'aguinea freddo il maroc tu sei con questo io faccio così poi faccio così è fottuto ma dopo una senta con i due pixel vai paesi bassi rivelati bello bello bella questa bella questa bella 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 oppure la spagna se la sta chillando dai poveri paesi bassi ah io la finlandia ho l'ho chiamata ecco chi mancava oh guarda guarda oh bene la finlandia bene io farei un'azgo oh porco god io facemmolo pure minceca l'italia è grossa cioè l'italia che cazzo è il brindis l'egitto no l'egitto che cazzo sei giostro e tu sei libia giusto se libia è l'italia che tomba che cazzo è l'egitto l'egitto oh ma l'asomalia che cazzo ha fatto l'asomalia è invaso 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 paccia loro sono ancora alleati e proviamo a fare così non mi piace non mi è gustato questa smossa abbiamo perso le orecchie abbiamo recuperato ecco sì abbiamo le orecchie più grandi attacchiamoli attacchiamoli sì si si l'italia è una stronger l'italia è proprio stronger l'italia è stronger l'italia è stronger non ci possiamo fare niente se l'italia fa la stronger beh i paesi bene la giorgia è pericolo l'italia che stai facendo nooo vai mannaggia il marocco che è stronger non man perché ci sta la guinea che è stronger ecco qua tu sei il male sei proprio il male mali male vediamo un po' qua la situa abbiamo il reno sì attacchiamo uh ma la giorgia è stronger che combatte due cose insieme l'italia è stronger che respinge ogni cosa il male il male si collabora mmm la giorgia proviamo contro il marocco si umede mamma mia mi dà le bella 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 se non do i nomi a tutti quanti perché non è che li vedo tutti quanti quindi se loro attaccano lui è finita loro sono finiti loro le due parole anzi no tu sei il chad sei proprio là il chad se io faccio così però l'inghiltero non ti so dio spagna proviamo dai su la giorgia la giorgia sta combattendo contro il lettonia non si sa con chi altro se l'impero se io attacco qui perdiamo tutto gli inglesi mi stanno dando i nervi gli inglesi bella così se non no ma la spagna il sacco io tipo faccio così oh cazzo in libia in libia è strong in sudan pure ma questo è tutto tutto il congo ma che cazzo sei coglione vediamo un po' passo che accade la spagna oh va bene va bene sì la fila oh cazzo madonna l'inghilterra e l'italia sono strong qua mi badiamo la spagna attacca 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 gran piselloni l'inghilterra direi fare bene bella bella per l'inghilterra bella per l'inghilterra ship show robic oh mamma mia siamo a 22 minuti io dico di fermarci qui perché sono 22 minuti 22 minuti e noi ci vediamo in un prossimo episodio ciao ciao comunque mi starò un altro po' per vedere quindi ne troverete delle cose diverse ciao ciao oh po' per Grazie.